Vecchi e 50 diamo inizio alla nostra serata, questa nostra domenica sera, 16 luglio, caldissima, ci sono 31 gradi in questo preciso istante alle 20.50, proviamo a fare radio anche con questo caldo amici miei, stasera Roadhouse Blues, quindi niente male, bella musica, il grande rock blues qui su GBJ, ogni tanto spunta dal nulla ed è giusto far ascoltare i grandi della musica blues e rock insieme, ma partiamo come sempre con le nostre anteprime, sempre tre gli artisti da presentare, iniziamo con Rich Jakes, compositore, producer, pop music, Indian music dal Maryland, varie collaborazioni con artisti americani come Neil Finn, Michael Penn, Ron Saxmeth, ci ascoltiamo alla sua ultima composizione, I think must change qui a GBJ Station, Rich Jakes. per fait hedge di spero merito merito Grazie a tutti 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 Rich Jack Grazie a tutti 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 21 e Grazie a tutti 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 Rock me baby Grazie a tutti 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 out of the Grazie a tutti 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 22 e Grazie a tutti 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 22 e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti